Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo il montaggio di un meccanismo al quarzo, di un orologio, di un movimento per orologio da parete o da tavolo. Partendo da in alto a sinistra vediamo la batteria che era inserita alla fine, poi il movimento, il nostro meccanismo, poi una rondella in plastica, poi abbiamo il quadrante, il quadrante è il lavoro che abbiamo eseguito e di cui vogliamo fare un orologio, poi abbiamo un'altra rondella, poi un dado che andrà a bloccare la rondella, poi abbiamo le ore, i minuti e i secondi. Questo è lo schema di montaggio di un orologio da parete o da tavolo. Poi il meccanismo può essere dei più differenti. Possiamo avere un meccanismo 24 ore, perfino un anti-orario che va al contrario, orologi con perno lungo per materiali spessi, legno, mattonella e altri materiali che hanno un certo spessore, oppure orologi con un piccolo spessore. Se vogliamo fare un orologio con un cd, con un lamierino, useremo uno spessore molto basso. Possiamo avere anche orologi pendolo. Abbiamo visto lo schema di montaggio. Grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie, al prossimo video.